Un incendio è scoppiato nel villaggio di Tientiste, in Bosnia-Herzegovina, minacciando il Parco Nazionale della Sutejska. Circa 150 ettari di foresta secolare di conifere nel parco sono attualmente in fiamme e questo rappresenta un grave danno ambientale. La protezione civile ha richiesto l'assistenza delle forze armate della Bosnia-Herzegovina per combattere l'incendio. È una situazione molto difficile, i droni, i droni che si bruciano, i camioni, i terreni dove si usano il foglio, dopo un po' di minuti dovremo tornare a questo dio, perché si tratta di un strano, i canioni, dove si attivano i droni di sagorio. Lunedì anche i vigili del fuoco albanesi hanno combattuto contro le fiamme nella città di Finik, mentre gli incendi divampavano in almeno altre 11 località montane del paese. Le squadre di soccorso hanno utilizzato elicotteri e idranti per domare le fiamme che avvolgevano la città, situata a circa 250 chilometri a sud della capitale tirana. Il Ministero della Difesa Albanese ha riferito che le fiamme nella montagna secca, lungo il confine con la Macedonia settentrionale, sono in corso da una settimana.